RDA Radio 1, Radio Ballerina Ua, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale, ascoltaci. Stai ascoltando Atena Romana 1. Ascolta Radio Vacanze, con noi ti sembrerà sempre di essere in giro per il mondo. Giuseppe Murigno per molti è un incontentabile e lo reputano, lo reputano un difetto, per quello che mi riguarda è invece una qualità, quella di cercare sempre qualche cosa di più e di migliore da portare avanti. Ecco perché sono 40 anni che non fallisce nulla. Ecco perché sono quasi 40 anni che vince dappertutto e vincerà come ha già fatto l'altro anno anche con la Roma, anche quest'anno. Un grande allenatore, speriamo che rimanga lungo e lo auguro per noi tutti, per la Roma. Perché, lo ripeto, questo non fermarsi mai, questo non adaggiarsi sugli amori, ma cercare sempre quel qualcosa in più che dia garanzia di spettacolo e di qualità. Adoro Giuseppe Murigno, proprio perché non si accontenta mai. Vi auguro una buona giornata, fortissimamente Roma. Ci sentiamo più tardi. Ascolta Radio Vacanze, con noi ti sembrerà sempre di essere in giro per il mondo. RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo pc, digitando www.spreaker.com slash user slash Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web.